La rivista statunitense Forbes ha pubblicato la lista degli uomini e delle donne più ricche del mondo. L'uomo più ricco del mondo è Jeff Bezos, fondatore di Amazon con un patrimonio di 91 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, occupa la seconda posizione con un patrimonio di 89,7 miliardi di dollari. Amancio Ortega è il terzo uomo più ricco del mondo e il fondatore della catena di abbigliamento Zara. Warren Buffett è un grande investitore e un filantropo e il quarto uomo più ricco del mondo, secondo Forbes. Il fondatore di Facebook è il quinto uomo più ricco del mondo con 71 miliardi di dollari. Al sesto posto Carlos Limeu, che controlla il più grande operatore di telefonia mobile in America latina. Larry Ellison è il settimo uomo più ricco del mondo con 61,6 miliardi di dollari e il cofondatore di Oracle. Michael Bloomberg occupa l'ottava posizione del fondatore del colosso di informazione finanziaria. Alla nona posizione c'è Bernard Arnault, proprietario del più importante gruppo di lusso al mondo. Il patrimonio è di 53,2 miliardi di dollari. I fratelli Charles e David Katch sono a capo dell'industria omonima, patrimonio di 48,5 miliardi di dollari.